Ben ritrovati con il telegiornale di Arezzo TV che si apre con la cronaca un incidente mortale avvenuto nel cortonese intorno alle 16.45 lungo la regionale 71 in località Vallone nel comune di Cortona. Si è trattato dello scontro tra un'auto e una moto a perdere la vita il motociclista un uomo di 60 anni la persona che invece era alla guida dell'auto un uomo di 79 anni è stato trasportato in codice giallo con il Pegaso all'ospedale delle scotte di Siena sul posto un'ambulanza infermierizzata di Cortona e una della misericordia di Castiglione Fiorentino i vigili del fuoco di Cortona e la polizia municipale. Una rovinosa caduta in bici per un 53enne è accaduto all'onda comune di Prato Vecchio Stia oggi intorno alle 13.30 sul posto un'ambulanza infermierizzata della misericordia di Stia i vigili del fuoco e i carabinieri di Bibiena. L'uomo è stato trasportato con il Pegaso all'ospedale Careggi di Firenze. I mezzi e gli uomini invece del soccorso alpino e speleologico della Toscana sono dovuti intervenire nella zona di Piancacelli sul Monte Falco all'interno del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi per soccorrere un escursionista cinquantenne proveniente dall'Emilia Romagna. La donna si era ferita ad una gamba mentre stava cercando funghi nel bosco insieme ad un gruppo composto da altre tre persone sul posto anche l'elicottero dei vigili del fuoco e i carabinieri forestali. La donna è stata trasportata in barella a spalla lungo il sentiero fino alla strada dove la tendeva l'ambulanza. E sarà un fine settimana da Bollino Rosso lo annuncia ANAS appunto in questo fine settimana è previsto il grande rientro dalle vacanze estive. Terzo fine settimana di agosto da Bollino Rosso all'insegna degli spostamenti e dei primi rientri verso le grandi città. Sotto la lente per il costante aumento dei flussi di traffico in vista dei primi rientri la rete autostradale per il territorio aretino l'autostrada del sole. In previsione dell'aumento del traffico ANAS presidierà la rete per mantenere fluida la circolazione con il monitoraggio costante del personale, il pronto intervento e la massima riduzione del numero dei cantieri attivi lungo la rete. 3 su 4 sono stati fermati fino al primo weekend di settembre. Per la situazione dei cantieri inammovibili ANAS invita tutti a consultare prima di partire il sito stradeanas.it. Il Bollino Rosso sarà fino a tutta la giornata di domenica 20 agosto. Gli spostamenti in crescita saranno ovviamente verso le grandi città. Dalle 8 alle 16 di sabato 19 e dalle 7 alle 22 di domenica 20 sarà in vigore il divieto di transito ai mezzi pesanti. Lutto nella sanità aretina e scomparsa. Simona Lepri, infermiera professionale, ha svolto ruoli apicali nella ASL Toscana Sud-Est. Come ricorda l'Ordine delle Professioni Infermieristiche, Lepri è stata una collega professionale disponibile e stimata per tutti coloro che hanno lavorato nella sanità aretina. Grazie alla sua spiccata personalità e professionalità è riuscita a trasmettere tutta la sua passione per la professione. Oppi ovviamente fa le condoglianze alla famiglia, alle quali si aggiungono anche quelle della nostra redazione. Tutta la verità del difficile percorso di una famiglia che non si illude ma nemmeno si arrende allo spettro autistico nelle parole di una madre che ha scelto di diventare la voce del suo bambino trovando la forza di condividere questa esperienza di genitorialità. È quello che racconta il libro di Agnese Fioretti, La voce di Pietro, l'incontro che chiude l'intensa programmazione di Zenzero Off. È un fuori programma che si svolgerà lunedì 28 agosto alle 17.30 negli spazi del nuovo punto Menchetti del Parco Pertini di Arezzo per presentare questo libro. Adesso invece parliamo del caro carburanti e del caro vita. Prima un servizio proprio sui dati appunto a quanto sono arrivate benzina e diesel ma insomma i carburanti in genere e poi sentiremo invece la voce della presidente di Feder Consumatori Chiara Rubiani che appunto commenta questo momento difficile per le famiglie italiane. Il caro carburanti picchia duro e sommato all'inflazione mette in ginocchio molti italiani. È da un mese che la benzina è tornata addirittura oltre i 2 euro al litro per il servito e anche il diesel per il fai da te è arrivato a superare l'1,9 al litro. Secondo i dati disponibili dall'osservatorio prezzi del mese tra i self-service ad esempio in Val D'Arno si arriva a 1,989 per la benzina e a 1,939 per il diesel. I prezzi sono alti in tutta Italia e Arezzo ovviamente non fa differenza, anzi forse c'è qualche centesimo in più. Una situazione da tamponare che con il passare dei giorni si è aggravata. I prezzi dei carburanti stanno salendo da 16 giorni consecutivi proprio in concomitanza con il periodo delle ferie di ferragosto. Intanto, proprio per l'alta volatilità dei prezzi dei carburanti, a ferragosto la Guardia di Finanza ha fatto sapere di aver intensificato i controlli a tutela dei cittadini. Dal 1 di agosto sono stati effettuati 1.230 interventi in tutta Italia e riscontrate 325 irregolarità. Le violazioni contestate sono state 789, di cui si legge nella nota delle fiamme gialle 363 per mancata esposizione dei prezzi oppure per difformità da quelli praticati rispetto a quelli indicati. Qual è la fotografia che anche voi riscontrate? È una fotografia buia purtroppo, sta picchiando su tutte le famiglie, picchia sulle imprese. Ricordiamoci che a Catena il caro energia e il caro carburanti portano a trascina con sé il rialzo di tutti i beni. Anche perché noi abbiamo incentrato tutti i nostri trasporti, ormai sono 50 anni da prima, storico, ormai esiste il trasporto merci su gomma, esclusivamente su gomma direi. E quindi ovviamente il caro carburanti che sostengono gli autotrasportatori viene riversato poi dopo nel prezzo finale e il conto salatissimo lo pagano infine i consumatori e le famiglie. Famiglie che vedono il carrello della spesa lievitare ma non da un mese all'altro, da un giorno all'altro. Da un giorno all'altro, quando gli stipendi sono gli stessi, quando gli stipendi sono insufficienti. Ricordiamoci che abbiamo tra gli stipendi più bassi d'Europa, siamo i paesi che lavorano di più come carico lavorativo, se guardiamo la media del carico lavorativo, ma nonostante questo gli stipendi più bassi d'Europa. Lo vediamo ora nelle località di mare, il pieno c'è, ma degli stranieri. Gli italiani stanno a casa, io ho sentito anche molti miei conoscenti, purtroppo hanno dovuto tagliare. Quello che è il giusto riposo dopo un anno di fatiche, di cose non belle anche, diciamo, perché il caro energia ha colpito tutti e le persone sono state costrette a stare a casa. Feder Consumatori auspica che ci siano maggiori controlli. Il famoso mister prezzi deve essere molto più incisivo. La guardia di finanza, bene, ma molto di più. E poi infine il grosso tema delle accise, che aumentano percentualmente. Ricordiamoci, aumenta il costo, speculazione, sì, ma aumenta anche il gettito fiscale, perché aumentano assolutamente le accise. Trovo un pochino fuori luogo, forse poteva esprimersi meglio il ministro quando ci dice che al netto delle accise è in linea. Ma sì, ma ci sono le accise. Insomma, non è concepibile, cioè noi da tanto che lo diciamo va assolutamente riformato il tema delle accise. Non è possibile continuare a pagare ancora la guerra d'Etiopia. Vanno ristrutturate assolutamente, vanno abbassate. Non è vero che non si possano abbassare. Vanno abbassate. Vanno abbassate come misura tampone? Sì, assolutamente. Noi riteniamo che vadano abbassate, comunque vadano sterilizzate temporaneamente le accise. E dopodiché deve rientrare veramente in un sistema, in una nuova concezione, una nuova riforma fiscale. Che non gravi in maniera, spalmandosi indifferentemente su tutte le famiglie, ma colpisca. Perché ricordiamoci, chi più ha, più deve mettere a disposizione della comunità. E questo è il passaggio che deve, è il messaggio che voglio assolutamente che passi. Chi più ha avuto dalla società, più deve dare, deve restituire. Un ciclo di eventi per valorizzare e raccontare il contributo delle donne nella scienza, nella ricerca e nello sviluppo della società donne in scienza è proprio il progetto delle ACLI di Arezzo che tra settembre e dicembre si svilupperà tra laboratori, cinema e teatro per stimolare una riflessione sul tema dell'emancipazione femminile tra spettatori di tutte le età con l'obiettivo di favorire l'affermazione della cultura di genere. Nel mese di settembre prenderà il via anche la seconda edizione della rassegna cinematografica sulle pari opportunità, pari e dispari, che sviluppata tra dieci proiezioni diffuse tra i luoghi del territorio comunale utilizzerà i film di ieri e di oggi proprio per offrire chiavi di lettura per interpretare le complesse dinamiche delle politiche di genere. E adesso ci spostiamo a Cortona perché questa sera c'è stata l'anteprima per la stampa ma domani aprirà al pubblico la 61esima edizione di Cortona Antiquaria. Si parla di antiquariato, di bellezza, di arte e si incastra benissimo con la mostra che è già in itinere la mostra Signorelli 500, quindi siamo molto soddisfatti, è una grande organizzazione ringrazio per questo il presidente di Cortona Sviluppo, il direttore della mostra Furio Velona l'assessore alla cultura, tutta la maggioranza e tutti coloro che hanno collaborato alla riuscita di questa 61esima edizione, una mostra che oramai fa parte integrante del calendario annuale degli eventi a Cortona che dà grandi soddisfazioni al territorio. Tra l'altro c'è da dire una cosa, che la mostra che voi avete inaugurato a giugno è stata giudicata la mostra forse più importante di quest'anno a livello nazionale perciò la Fiera Antiquaria si accoda a qualcosa di veramente? Sì, diciamo che la mostra Signorelli ha raggiunto obiettivi molto importanti siamo oltre 11.000 visitatori già e abbiamo veramente complimenti da tutte le parti del mondo quindi siamo molto contenti ma in questo contesto, come dicevi bene, si incastra anche la mostra Cortona Antiquaria che fa parte, ripeto, come ho già detto, del calendario degli eventi cortonesi e che porta anche interesse non solo turistico ma anche culturale e anche economico in un complesso che è il complesso di Sant'Agostino che è meraviglioso. Poi tra l'altro gli ultimi anni avete fatto dei passi da gigante anche per la Fiera Antiquaria perché c'è una giuria, i pezzi sono assolutamente eccezionali, sono scelti, la grande qualità. Sì, è salito molto il livello, questo è vero, più abbiamo anche quest'anno la fortuna di avere con noi Vittorio Sgarbi perché daremo il 27 agosto il premio Cortona Antiquaria con Vittorio Sgarbi e il premio alla professionalità e anche a quello che è l'ambasciatore nel mondo che è Francesco Santucci quindi daremo anche un premio a Francesco Santucci. Quindi diciamo che la Cortona Antiquaria è ricca anche di collaterali come i macchiaglioli che andremo a vedere a breve che è proprio di rimpetto a Sant'Agostino e quindi anche essa darà slancio a tutta l'attività della mostra ma a tutto questo punto, a tutta la città di Cortona. Momento d'oro, appunto quello che vive la città di Cortona, non solo come abbiamo sentito dalle parole del sindaco con Cortona Antiquaria e ovviamente la mostra dedicata a Luca Signorelli ma fino al primo di ottobre sarà visitabile nella città etrusca anche Cortona on the move. Le mostre declinano quest'anno il tema di More or Less, un tema che affronta la contrapposizione tra scarsità e abbondanza, esplorandolo sotto tanti punti di vista e sotto tanti sguardi. Ad interpretare la dicotomia tra più e meno per la tredicesima edizione di Cortona on the move, il festival internazionale di fotografia, 30 artisti per 26 mostre, tra il centro storico, la Fortezza del Girifalco e la stazione C di Camucia. All'interno della Fortezza del Girifalco la mostra Standing Still del grande maestro Massimo Vitali. La mostra presentata per la prima volta nella sua interezza Cortona e il caso Africo dall'archivio Publifoto di Intesa San Paolo e poi per afforzare ancora di più il legame con il territorio una collaborazione con Autolinee Toscane che mette a disposizione un autobus su cui ospitare la mostra del fotografo italiano Marco Garofalo incentrata sulle periferie e sulla musica trap come riscatto sociale. Anche una mostra di Fausto Podavini in collaborazione con Medici Senza Frontiere per raccontare il cambiamento climatico. Tra i nomi della fotografia internazionale che partecipano a questa edizione è Larry Fink, il re statunitense del bianco e nero. Un fotografo americano straordinario, ultraottantenne, il quale ha documentato nella sua lunghissima carriera dai grandi del jazz fino ai beatniks e in questa mostra in particolare è una mostra perfetta per More or Less. Larry fotografa le feste VIP degli Oscar che aveva fatto per tutti gli anni 90 per Vanity Fair dove in qualche maniera è veramente una fiera delle vanità. Non sono quelle persone famosissime che riconosciamo nelle foto che lui fotografa sono degli attori di questa fiera delle vanità. E questo è messo in contrapposizione con una famiglia che sono vicini di Larry Fink nella Pensilvania rurale che è una famiglia particolarmente povera e la contrapposizione nella maniera in cui Larry li fotografa e ce li porta a far vedere a Cortona è veramente il nucleo focus di questa mostra. Con il prossimo servizio invece torniamo ad Arezzo perché nonostante la presenza degli italiani in questa estate 2023 nelle zone appunto di vacanza, città d'arte compresa, non abbiano numeri da capogiro, Arezzo invece ha fatto registrare una buona affluenza soprattutto a cavallo del Ferragosto e c'è stato anche un record di presenze. Sentiamo. Un nuovo record è stato scritto nei giorni scorsi ad Arezzo quello degli accessi alla Basilica di San Francesco che custodisce la leggenda della vera croce di Piero della Francesca. Ad annunciarlo dalle colonne virtuali di Arezzo Notizia è l'assessore al turismo del comune di Arezzo Simone Chierici. Era stato proprio lui anche ai nostri microfoni pochi giorni fa ad essere molto cauto per un'estate che non ha visto brillare i dati del turismo legato alle presenze degli italiani. Nonostante questo il ponte di Ferragosto ha visto comunque tanti turisti in città. La cartina al tornasole sono proprio gli ingressi nei musei e nei luoghi d'arte, uno su tutti, la Cappella Bacci. Ad ammirare gli affreschi sono state centinaia di persone, dice Chierici, tanto che nei giorni scorsi è stato raggiunto il record di visitatori, 556 accessi. Un numero del genere non lo si era mai registrato, un dato che va ben oltre la media giornaliera dei mesi estivi. A giugno e a luglio in media erano circa 280 le persone che avevano visitato la Cappella. Il mese migliore di questo 2023 era stato aprile con una media di 313 visite. Ma questo agosto, conclude Chierici, sta andando ancora meglio e speriamo che nelle prossime due settimane i dati si consolidino. E siamo allo sport. La Rezzo inizierà il suo cammino nel campionato di calcio di Serie C con un anticipo, quello contro il Rimini alle 20.45, il primo di settembre. La partita di esordio che segna il ritorno degli amaranto tra i professionisti è stata posizionata proprio in questa data per evitare la concomitanza con la giostra del Saracino che si tiene domenica 3 settembre ma anche con le cene propiziatori di sabato 2. Poi la squadra del presidente Manzo e dell'allenatore indiani avrà il secondo turno interno contro la Carrarese. La partita sarà disputata proprio al Comunale alle 18.30 il 9 di settembre. Il giorno dopo, il 10, sarà proprio il centesimo compleanno dell'Arezzo Calcio per il quale, come sappiamo, sono in programma tante celebrazioni. E oggi l'attaccante Ceco ha rilasciato la sua prima intervista in conferenza stampa. Sentiamo allora le parole di Kozak. Grazie per il benvenuto. All'armotivi ero giocatore libero, vincolato, stavo cercando la squadra. Mi piaceva tornare in Italia e quindi ho parlato con il mio procuratore e è venuta questa possibilità di venire a Arezzo. Subito mi piaceva, subito mi sono chiesto sulla società e tutto. Dopo tutto quello che ho sentito ero convinto di venire. Poi quando sono venuto mi sono confermato questa cosa e subito da primi minuti con il direttore e con tutti intorno della club ero convinto di venire e di anche tornare in Italia, come ho detto. Sì, ho visto la città già. Anche quello io ho qua amici vicino, quindi ho già saputo che Arezzo è una bella città. e anche quello sicuramente perché porto la famiglia sarà importante. Da parte calcistica mi è piaciuta l'organizzazione e tutto. Anche i primi giorni, le prime settimane sono molto positive. Spero di trovarmi pronto. Sicuramente ora sono rientrato in gruppo, quindi sicuramente un settimana ci vuole un po' di... come si deve essere in gruppo, andare a pieno, però sarò pronto per la prima e spero di subito dare un contributo. Per la squadra neopromossa c'è un presidente da due o tre anni, quindi sento anche quello che ho sentito, c'è un progetto e piano piano si vuole andare avanti, anche con il campo centrosportivo nuovo, qua tutto, si vede che il presidente della società ha questo progetto e non ha fretta, diciamo, e fa passi dopo passi. E mi è piaciuto questo che appunto la squadra promossa in C, lo lavoro vuole fare bene lì e poi si vede che si fa altri anni. Però è importante ora di fare bella stagione. Vediamo, ora neanche io non ne ho seguita in ultimi anni, quindi anche per me sarà una novità, ma io sempre più concentro su di me, se c'è con Premier League o Serie C, per me è importante stare bene fisicamente, stare bene, poi starò bene anche in testa, e poi il gol è sempre bello a farlo, quindi non tanto conto a dove, ma è importante farlo. Quindi mi aspetto comunque un campionato difficile, perché il girone, anche per le squadre che ci sono, mi sembra un girone molto difficile, duro, anche per noi è bello subito di almeno vedere le nostre potenzionalità, quindi penso che tutti i ragazzi guarderemo avanti a iniziare il campionato. Sì, i primi allenamenti con gruppo, anche quello che mi ha spiegato Mister, può essere una cosa bella, che ci sono due esterni e io mezzo, diciamo a quel mio ruolo che mi è più vicino, dico sicuramente ci dobbiamo trovare tutti pronti, anche i ragazzi che hanno conosciuto, mi sembrano tutti ragazzi bravi, forti, e c'è tanta voglia, quindi speriamo che ci mettiamo tutti d'accordo su campo e che io posso poi fare quei gol. No, la mia promessa è che do sempre il massimo, poi i gol vediamo, non voglio fare i conti, ma la mia promessa è che do sempre il massimo per la squadra. Il preparatore atletico Francesco Sinatti potrebbe lavorare in azzurro, i rumors sull'approdo del retino nello staff della Nazionale ci sono tutti. Sinatti dopo aver contribuito alla conquista dello scudetto del Napoli, curando la preparazione atletica proprio dei calciatori partenopei, adesso in virtù dello stretto legame con Luciano Spalletti, che nelle prossime ore potrebbe subentrare ufficialmente a Roberto Mancini, potrebbe appunto intraprendere questa nuova avventura. Insomma, staremo a vedere. E vacanze finite anche per l'Amen. Un web servizi lunedì prossimo 21 è stato infatti fissato il raduno precampionato che si ritroverà al Palasport Estra sotto la guida dello staff tecnico a Maranto. C'è molta curiosità ovviamente per vedere all'opera i nuovi arrivati che sono andati ad integrare una intelaiatura rodata dall'ultima strepitosa stagione. Coach Evangelisti avrà come assistente liberto e cureranno gli aspetti tecnici proprio degli allenamenti mentre la parte fisica sarà seguita da Simone Marracini, colonna portante dello staff anche per il suo lavoro di prevenzione e cura degli infortuni. Infine chiudiamo con il ciclismo. Sono 200 gli iscritti, 33 le squadre di Elite e Under 23 che parteciperanno al Giro del Casentino che si terrà domenica prossima 20 agosto con partenza da Corzalone e arrivo sempre nella località casentinese tra i principali corridori al Via Ambrosini vincitore mercoledì del prestigioso Gran Premio Capodarco. Tra gli aretini ci sarà Francesco Della Lunga in gara, anche il team aretino Rosini guidato da Franco Chioccioli. Come sappiamo è il Giro del Casentino un albodoro davvero di tutto rispetto. Quest'anno ricorrono i 70 anni proprio della partecipazione a questa classica di Gastone Nencini. Per questo sarà presente la figlia Elisabetta. È tutto per questa edizione del nostro telegiornale. Grazie per l'attenzione e arrivederci.